Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo video. Che titolo vi mando oggi con questo video? Ultimamente ho fatto dei video abbastanza importanti sul trasferirsi comunque all'estero, dei video, chiamiamoli così, un po' seriosi, quindi ho detto dai, bisogna staccare con uno di quei video divertenti, facciamoci un paio di risate insieme. Oggi vi racconto 5 fatti per me assurdi, realmente successi nella mia vita. E mi piacerebbe, maico in questo caso, veramente leggere i vostri commenti, soprattutto se avete il piacere di condividere i vostri fatti assurdi della vita, o se avete esperienze comuni e quelle che vi elencherò, fatemi sapere la vostra, facciamoci 4 risate, raccontiamoci casi umani ed esperienze assurde della vita. Inizio con una storia d'amore. Ho preparato un elenco, ce l'ho davanti a me perché non me voglio perdere i punti, non me voglio perdere tra questi fatti assurdi. Il primo è una storia d'amore. Mi ricordo ero ad Edimburgo, era una delle freddissime tipiche giornate di Edimburgo, stavo facendo una passeggiata a Princess Garden. Mi ricordo che c'era sto ragazzo, mi sono seduta su una panchina, si è seduta accanto a me un ragazzo, stavo leggendo il suo libro, abbiamo iniziato a chiacchierare, ci siamo scambiati i numeri, e lui mi invita per un appuntamento. Ma guarda, ci vediamo, mi ricordo, giovedì, meredì, sabato sera, insomma, ci vediamo, andiamo a bere una cosa insieme, va bene? Mi presento a questo appuntamento, beviamo una cosa insieme in un locale che aveva scelto lui, e io poi pensavo, insomma, finisce là, ci beviamo una birretta, ci facciamo una chiacchiera, lui invece aveva organizzato già tutta la serata, cioè senza manco conoscermi, senza manco sapere se avevo impegni dopo, se ci stavamo simpatici, non ne ho idea, aveva già organizzato dove saremmo andati a mangiare dopo. Mi inviti a cena, cioè io mi inviti a mangiare, e mi inviti a nozze, cioè vengo, sì, andiamo a mangiare, certo, mi piace. Andiamo a mangiare in questo ristorante, ci sediamo, mi ricordo che non ho neanche aperto il menù, perché lui aveva già deciso, anche questa volta sempre solo lui, per entrambi che cosa avremmo dovuto mangiare, avremmo dovuto bere, quindi io non ho avuto manco il piacere di guardare il menù, perché lui aveva già ordinato da mangiare e da bere, tipo di situazioni che non fanno per me, cioè non sei il mio migliore amico, che conosce i miei gusti, ordini per me, poi chi ti dice che voglio devi delle cose da mangiare e da bere, una situazione che non mi piaceva, e quindi che cosa ho fatto? Io ho avuto poi alla fine la date con quelli del tavolo accanto, prima mentre cenavamo, io praticamente mi giro e inizio a parlare col tavolo accanto, mi ricordo troppo bene, era questo ragazzo, che era a cena con la zia e il compagno della zia, questa storia è veramente assurda, perché la zia di questo ragazzo aveva utilizzato un'app di incontri, ed era il suo primo appuntamento con quest'uomo, siccome non sapeva come le cose andavano, si era portata dietro pure il nipote, e quindi mi ricordo che io ho iniziato a fare amicizia con loro, ho mollato sto tizio al tavolo suo, mi sono messa a mangiare e bere con quest'altro tavolo, e poi con loro si è usciti a fa serata, quindi veramente è una cosa assurda, secondo me è una di quelle situazioni da film, che diceva impossibile che è successa nella vita, mi è successa, come mi è successo, secondo fatto assurdo, realmente è successo nella mia vita, di essere la figlia di uno scrittore, era tempo, non mi ricordo che anno era, comunque ero al liceo, il mio scrittore preferito dell'epoca era Nicolo Ammaniti, Ammaniti veniva a Foggia a presentare il suo libro come Dio comanda, io volevo assolutamente incontrare Ammaniti, volevo assolutamente farmi due chiacchiere con lui, e per quanto io sembri una tipa estroversa, che piace stare al centro dell'attenzione, sono timidissima, quindi io in una conferenza stampa, di presentazione libro, non avrei mai alzato la mano per fare la domanda ad Ammaniti, non sarei mai andata col libro a dire, mi fai l'autografo, l'assurda Müller cosa ha pensato, a Foggia ci sono pochi hotel veramente rinomati, e io mi son detta sicuramente Ammaniti andrà all'hotel Cicolella, se sei di Foggia sai di quale hotel sto parlando, comunque è uno degli hotel più prestigiosi della mia città, quindi io mi ricordo vado lì pomeriggio, con il libro, ma soprattutto con il mio diario, farei essere a Foggia in questo momento, prendere quel diario e farvi vedere la prova, mamma se stai guardando questo video, recupera il diario, posta una foto su Instagram, condividiamo le prove, le prove di questo evento, vado all'hotel Cicolella, vado in reception, faccio la salve, c'è il signore Ammaniti, questi contro, ovviamente ignoranti, non sapevano neanche chi fosse Ammaniti, quindi per loro era semplicemente un guest dell'hotel, e le mi fanno, sì signore Ammaniti, ha detto ma in stanza sono la figlia, mi fa, no no sì sì, è in stanza ancora, glielo chiamo, ciò sì sì sì, la ringrazio, io mi son detta sicuramente a questo punto, una volta che chiamano la camera, le dicono signore Ammaniti, c'è sua figlia giù, questo chiamerà security, guardi del corpo, invece ragazzi, lì ho poco, Ammaniti, se stai guardando questo video, caro Nicolò, commentami qui sotto, per favore, dai anche tu come mia mamma, testimonianze di sta storia, mi ricordo che dopo pochi minuti, Nicolò Ammaniti scese le scale dell'hotel, e io me lo sono ritrovata davanti, ed ero, no io non ci credo che mi sta succedendo, e io mi faccio, io non pensavo che lei sarebbe mai sceso, e lui mi fa, io non pensavo da avere una figlia, non solo sua figlia, ha fatto, lo so, ha detto però, dice davanti alla chiamata di una figlia, che uomo sarei stato a non scendere, neanche ad incontrarti, quindi fu un bellissimo incontro, mi ricordo che avevo il mio diario, perché volevo che Nicolò Ammaniti, mi scrivesse alla pagina 14 febbraio, gli auguri di compleanno, ed è così che ho conosciuto uno dei più bravi scrittori italiani, che era il mio scrittore preferito ai tempi del liceo, l'ho adorato, molti di voi forse non hanno letto il libro come Dio comanda, magari hanno visto il film, o il più noto libro, che poi è diventato una grande e bella pellicola, era, io non ho paura, bellissimo, comunque è così che ho conosciuto Ammaniti, ed è così che sono stata per un giorno, per qualche minuto, la figlia di uno scrittore italiano. Terzo fatto assurdo, realmente è successo nella mia vita, per chi mi segue da un po', sicuramente ha visto i video al riguardo, ho viaggiato con perfetti sconosciuti, allora, l'esempio più eclatante, che avete, ho condiviso su Instagram, e ci sono anche video sul canale, è stato a Bali, e ero appena arrivata a Bali, e mi ricordo che ero in spiaggia a San Uar, ero lì a bere il mio smoothie, guardare il mare, si avvicina a sto ragazzo, a sto balinese, e mi fa, ma te sei appena arrivata, ma sai, sì sono appena arrivata, fa guarda, oggi è il mio giorno libero, ti porto in giro col mio scooter, a conoscere tutta l'isola, mentalità italiana, tu dici, ma questo, ma me stupro, me lascia nei campi di grano, che me succede? Mentalità del viaggiatore, ma fighissimo, cioè io ho un passaggio, grazie, so una guida turistica personale, che mi porta a vedere l'isola, ma sì ce vengo, e mi fa, guarda, io credo tanto nel karma, oggi è il mio giorno libero, non deve essere un caso, che ho incontrato te, che sei appena arrivata a Bali, nella mia isola, mia isola, che non conosci nulla, te devo far vedere il meglio, perché poi sono sicuro, che questa buona azione mi ritorni, e mi ricordo che, con il suo scooter, uno scooter veramente malandato, abbiamo girato praticamente tutta l'isola, siamo stati ai mercati balinesi, siamo stati a vedere delle cerimonie, mi ha portato a casa di amici, dove in questi campi di grano meravigliosi, bellissimo, vi lascio il video qui sotto, del mio tour balinese con questo ragazzo, è stato fantastico, non è stata la prima volta, perché mi ricordo invece, quando due stati fa, andai a trovare una mia amica, Margherita di Savoia, da lì ho conosciuto una sua amica, il giorno dopo con lei ero in macchina, per andare a Gallipoli, al Pride, quindi più di una volta ho viaggiato, con perfetti sconosciuti, e se siete dei viaggiatori, credo che sia un'esperienza comune, però c'è fatto assurdo, che io appena arrivata a Bali, ho trovato qualcuno, che mi ha fatto vedere l'isola in un giorno, non c'avevo più bisogno di viaggiare, infatti poi mi sono spostata a Cangu, e mi sono goduta proprio la vacanza turistica, perché avevo visto il meglio, con un vero, con un balinese, quarto credo, credo che sia il quarto, sì, quarto, sì, quarto fatto assurdo, è realmente successo nella mia vita, ho sbagliato matrimonio, ovviamente non in chiesa, finita la cerimonia, a Foggia si usa, che la sposa si va a fare le foto con lo sposo, e tutti gli invitati raggiungono la sala ricevimento, e lì inizia la fase aperitivo, mentre questi si stanno a fare foto, poi dopo a Clap Clap arrivano gli sposi, inizia il pranzo, io ovviamente arrivo in ritardo alla sala ricevimenti, e a Foggia ci sono queste grande sale ricevimenti, dove ci sono più aree, quindi può succedere che ci siano più matrimoni, che vengano celebrati nello stesso giorno, io messaggio alle mie amiche, dove siete? Siamo a bordo piscina, quindi entro là, vedo la piscina, ma ok sto arrivando, non conoscevo gli altri invitati, perché io ero una delle amiche della sposa, e quindi conoscevo la sposa, e le altre due mie amiche, eravamo un gruppo dei quattro, ma anche la mamma mi sembra che avessi mai visto, perché eravamo colleghe di lavoro, comunque mi ricordo che arrivo a bordo piscina, faccio la raga, ma io non me vedo, vabbè se siamo qua, siamo dall'altro lato vicino al DJ, quindi nel frattempo mi prendo il mio bicchiere di Prosecco, inizio a fare amicizia con la gente, inizio a farmi l'aperitivo, cerco di raggiungere l'altro lato della piscina, dove credevo ci fossero le mie amiche, e il DJ annuncia l'ingresso degli sposi, applaudiamo tutti felici, e io vedo che nella sposa e nello sposo, erano quelli del mio matrimonio, quindi io ho capito che ero al matrimonio sbagliato, e poi per fortuna mi sono spostata ad Esala, e mi sono ritrovata al matrimonio giusto, però mi è successo, realmente successo nella mia vita, era il matrimonio della mia amica Daniela, e poi ultimo fatto assurdo, realmente successo nella mia vita, e chi mi segue da un po' ha sicuramente visto il servizio, perché l'ho postato ovunque, io sono finita in televisione qui in Australia, era lo scorso 2020, appunto piena pandemia, pandemia, situazione, covid, si parlava tantissimo, si appassa un aereo, vabbè chi se ne frega, piena situazione covid, si parlava di questa situazione, backpaker scacciati dagli ostelli, la gente che li ospitava, e la televisione venne appunto nel motello, dove il grandissimo Paul ci ospitava, ad intervistarci, e sono finita in televisione in Australia, realmente successo, adesso se trovo il servizio ve lo mando in onda, però sì, questi sono i 5 fatti assurdi, ma realmente successi nella mia vita, che oggi ho condiviso con voi, chi mi conosce bene, sa che ci sono miliardi di altri fatti assurdi, e se me li ricordate ho il piacere di raccontarli, ma soprattutto fatemi sapere quelle che sono le vostre esperienze, i vostri fatti assurdi, e che quale di questi 5 fatti assurdi realmente successe nella mia vita, è quello che mi ha fatto più di, ma che davvero Muller, ma non è vero, o se ne avete qualcuno in comune, se siete stati anche voi figli di uno scrittore, per pochi minuti, mi farebbe sapere, cioè fatemi sapere di chi, di chi. Grazie come sempre per il vostro tempo, spero che sia stato un video leggero, che vi abbia fatto sorridere, che vi abbia fatto compagnia, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, sempre qui sul mio canale. Ciao! Ciao!